Il puzzle delle candidature in casa PD continua ad essere di difficile composizione, specialmente dopo che l'abbandono dei Gentile ha complicato ancora di più la partita nei collegi uninominali. Grandissime difficoltà si registrano in tutti i territori, ma soprattutto nel Regino, dove il partito deve fare i conti con il rifiuto dei principali big alla candidatura. Musica per le orecchie del centrodestra, all'interno del quale c'è invece la lotta per un posto al sole. Tra i democrat dunque è Caccia una posizione utile nel listino proporzionale per mettersi in salvo da magre figure. Ambiscono alla candidatura blindata, ad esempio, sia il ministro dell'interno Marco Minniti, sia l'ex assessore ai lavori pubblici del comune di Reggio, Angela Marcianò, oggi componente della direzione nazionale del PD. Aspettano invece le correnti prima di posizionarsi. Il deputato uscente Demetrio Battaglia, la cui creatura elettorale Nicola Irto, medita su una sua ricandidatura. Il sindaco Falcomatà attende invece di capire dove piazzare i suoi voti per dimostrare a Renzi di aver fatto un clamoroso errore nella gestione della vicenda Marcianò, mentre Romeo attende istruzione dal governatore. La garelle sulla sanità, conclusa esimale per Oliverio, non può considerarsi certo priva di conseguenze. E gli uomini del governatore, a Reggio come nel resto della Calabria, stanno cercando di capire che tipo di contropartita potrà essere offerta dai renziani al tavolo delle trattative, con censore e bossio in attesa di risposte certe. Il rischio di una rottura però stavolta è molto alto, così come con il passare dei giorni cresce la possibilità che Oliverio e i suoi possano decidere di appoggiare candidature dell'area che fa capo al ministro Orlando, il quale dovrebbe correre nel proporzionale proprio in Calabria. Riccardo Tripepi per la CNews24.